Abbiamo portato con Arzenova Giorgio De Chirico, quella persona che all'inizio del novecento ci ha insegnato a superare i limiti imposti dalla natura, dalla realtà, insegnandoci la mattina nell'alzarci a vedere la realtà con occhi nuovi. Abbiamo portato ora Salvatore Dalì che ci insegna ad apprezzare la realtà di quando la sera chiuderemo gli occhi, cioè del sogno. Dopo quella di Giorgio De Chirico, la città di Arezzo ospita nell'atrio d'onore del Palazzo della Provincia l'opera scultoria di un altro indiscusso protagonista dell'arte del novecento, Salvador Dalì. Una grande sorpresa perché grande è l'artista e grande sarà la mostra, anche se è composta di pochi pezzi. Sono tre grandi pezzi monumentali, Salvador Dalì. Questa è una piccola grande mostra copia, anzi gemella scusami, di quella di De Chirico perché entrambi sono stati suggestionati dal medesimo contesto culturale, quello scientifico viennese e quello pittorico svizzero con Berklin. Quindi è un po' la seconda parte di un dittico questa mostra che farà il punto su quel clima di primi novecento. La mostra Salvador Dalì Scultore sarà visitabile dal 14 aprile al 20 maggio 2018. Sono lavori del 73, tutti parlano di mitologia, parlano di omaggio a Duchamp e parlano di quel contesto onirico, devo dire, appena accennato nell'ambito scultorio che noi portiamo all'attenzione degli aretini e che quindi farà conoscere un Dalì più misurato.